Al-ma'id al-f'a' l'abba' la terza bba' l'abba' la serba' l'ashif mahsulu fa' l'ibadi dell'Islam alcuni dicono che l'ashif è soltanto l'adorazione dell'Islam l'ibadi dell'Abbiaq l'Islam ha dell'Islam invece l'adorazione dei messaggeri e dei profeti non rappresenta shif l'adorazione degli angeli non rappresenta shif e dice l'adorazione delle persone via non rappresenta shif non rappresenta shif ma non rappresenta shif l'islam mahsulu ma non rappresenta ma non rappresenta inseris e non c'è distinzione per un'adorazione o adorare un'angelo o adorare un'angelo o adorare un'angelo